Ciao a tutti, vediamo tre tattiche utilizzate dal narcisista per lasciarti. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Intanto ti ricordo che se vuoi imparare a sedurre le persone difficili e liberati dai narcisisti puoi partecipare al mio seminario che sarà venerdì 10 gennaio 2020 a Torino alle 20.45 e il riferimento è il 333 15 11 703. Inoltre chi non può partecipare ai corsi ricordo che può abbonarsi al canale Massimo Terramasco basta andare col computer nella home page e a fianco al tastino iscriviti trovi il tastino abbonati e con l'abbonamento potrai accedere diciamo a risorse esclusive, le registrazioni dei corsi fatti dal vivo e video lezioni dedicate. Allora, quali sono le tattiche utilizzate dal narcisista per lasciarti? Ma sono diverse. Allora, la prima è che si trova un'altra o un altro che esalta e ti denigra. Cioè lo fa quasi a sfregio. Questa è una tattica che usa molto spesso il narcisista per darti uno shock, uno shock molto forte. Ti dice lei è meglio di te, esalta tutte le qualità di un'altra persona, lei o lui, quello che è, per ferirti, per colpirti. Perché sa che in questo modo lascerà un segno molto forte e perché poi il narcisista ovviamente ritorna e in questo modo avrà spesso, come dire, lasciando una ferita aperta e sanguinante avrà spesso buon gioco di essere riaccolto. Un'altra tattica è quella di banalizzare il vostro rapporto, renderlo, svilirlo e in qualche modo diciamo cercare di dare la colpa a te di questo. In realtà banalizza il rapporto anche quando il rapporto di fatto invece potrebbe essere un rapporto stabile, magari era un rapporto che poteva anche sembrare apparentemente stabile. A parte che il narcisista prima di arrivare al ghosting, cioè alla sparizione, mette sempre in nato la denigrazione, per cui in qualche modo ti avrà già colpevolizzata. Poi un'altra tattica che utilizza è quello di esasperare tantissimo la situazione, tirare la corda, cioè in pratica ti fa fare una vita di inferno per spingerti in qualche modo ad allontanarti e poi somministrarti di nuovo al senso di colpa. Ecco, questa è un'altra tattica utilizzata molto spesso dal narcisista, molto frequentemente per diciamo crearsi del potenziale prima di lasciarti. Bene, ti ricordo che farò un corso a Torino su come sganciarsi dei narcisisti e come sedurre le persone che ti interessano, anche le persone difficili, come conquistarle. Venerdì 10 gennaio 2020, ora è 20.45 a Torino. Il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo altresì che attivo l'abbonamento su questo canale Massimo Terramasco e con l'abbonamento potrei accedere a risorse molto molto interessanti secondo me. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!